ragazzoni buona vista al vostro e tutto il regno della peglia al buon attimo se andiamo con il spagnolo tutti ragazzi di alegria io vedo tutti voi è il calcio sportivo bello del mondo ed oggi siamo qui in quel di priverno sorseggiando un'estate alla pesca ah che rimprescante ma non siamo qui per lo giudizio dell'estate siamo qui per dirvi la motivazione per la quale io dico buona la prima ai video allora era il 23 marzo 2020 praticamente ero a casa mia e stavo giocando a bidardino con mio anno quando a un certo punto il primo il primissimo video finito a uno per me a bidardino ma non lo registriamo perché i cani allo stato brado scapparono insomma il cane era scappato e infatti vi dirò allora perché ho detto buona prima perché dopo però abbiamo girato veramente quindi il video poi ci guarderà anche scarico dopo ricaricando il telefono abbiamo girato il video e ho vinto 3 al 0 contro il mio nonno poi la battuta chi fa chissà ha vinto ricordieremo e allora il video è andato bene la prima volta e così nacque il buona la prima che dicono anche Alefranza appunto ragazzi questa è la motivazione per la quale dico buona prima questa è la motivazione ragazzi quindi ci vediamo in un prossimissimo e bellissimo a presto e in diretta da Priverno qua guardate è tutto buona la prima con la rima vinciamo la prossima scheda ci vediamo stasera per sapere come uno sciorso se l'avevo vinto da l'antacomo buona